ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo creations update come già anticipato in altri video precedenti oggi vado a mostrarvi come ho montato le creazioni in resina con gli stickers sono tutte montate su catenella pallini quella da un millimetro e mezzo che è questa qui tutte le creazioni sono state praticamente montate andando a inserire direttamente il il gancino come vedete all'interno della creazione quindi sono andata a forare con un piccolo trapanino a mano poi sono andata a inserire il gancettino questo è un gaccettino a vite quindi si è avvitato e poi sono tutte state montate sulla catenella pallini molto sottile le creazioni con i stickers ne avete viste tantissime nei vari scopriamo insieme con la resina vi lascio ovviamente il link alla playlist dedicata e sono tutte creazioni realizzate con bene o male dai due ai tre strati praticamente c'è un primo strato di resina dove ho applicato stickers poi c'è uno strato di resina con i glitter è uno strato finale questa creazione ad esempio invece in glitter sono stati applicati sulla base del primo strato è poco prima che si indurisse del tutto e quindi sono stati fatti solamente due strati e in altre creazioni invece tipo questa aspettate la tiro magari non ne ho altre che si vedono no vabbè ne stavo cercando una comoda da tirare fuori vi tiro fuori questa qua allora queste invece vedete ha tre strati c'è lo strato di resina con lo stickers lo strato di resina con il glitter e lo strato di resina finale con il bianco con lo stickers e anche come vedete le stelline e puntini olografici vi faccio la rimetto dentro sì non le ho tutte incastrate in ordine che dovrebbero essere tutte messe così però ho dovuto tirarle fuori recentemente e le ho incastrate poi le ho rimesso nel sacchettino velocemente come sto facendo ora allora vi vado a far vedere quanto è lunga la catenella che come sapete se volete andarlo accorciare basta tagliare i pallini tra uno e l'altro e si accorcia per allungarla diventa un pochino problematico allora rispetto tutte le altre collano è un po più lunga e adesso andiamo a vedere esattamente quanto è siamo ups mi è partito allora siamo sui 22 centimetri all'incirca le altre stavano si 20 21 poi c'erano quelle con la coda di topo che erano un po più lunghe è una lunghezza media non è proprio giro collo ma non è neanche troppo lunga sul petto ecco quindi si va si vanno notare ve le faccio vedere velocemente allora dentro questi sacchettini o questa qua con la frutta quest'altra sempre con la frutta 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 kawaii ce ne sono tantissime gelatino e pancake poi abbiamo quelli nei sacchettini questa l'avete vista prima coniglietto frutta i cactus che sono i miei preferiti ce ne sono tre e hanno tre immagini kawaii diverse kawaii kawaii una volta mi cazziavate sempre che sbagliavo pronunciarlo e lo pronuncio kawaii e non lo dico più questa quest'altra questo penso sia un tortino il criceto non sembra ma è un criceto è un altro pancake vedete è diverso per quanto siano due pancake sono due pancake diversi e questo molang e l'ho persa un pezzo a sì perché questo ha un piccolo difettuccio infatti l'avevo anche ribassato di prezzo per questo motivo se non me lo tengo per me che mi piace comunque e niente queste sono tutte le creazioni sono molte meno ovviamente rispetto a tutti creations update non cresciuta sapete scusate tutti scopriamo insieme con la resina che ho fatto perché ovviamente molte le ho vendute fortuna dico io queste sono quelle rimaste come al solito la catenella rimanendo all'interno dei pacchetti lontana dal sole non si ossida e non si rovina però è inutile che ci prendiamo in giro finché le catenelle non sono di argento puro oro dopo un po di utilizzi o dopo un quest'anno esposte agli agenti atmosferici quindi anche sono semplicemente appesi in camera dopo un po si ossidano e non succede solo con i miei a me è successo con collane bracciali che ho comprato da altre creative e che ad oggi devo ogni tre per due andarli a cambiare la catenella proprio perché purtroppo si è si è rovinata e col tempo succede che si rovina ma io le tengo tutte al riparo e protette di mondo che quando voi fate il vostro ordine loro vi arrivano perfette a casa poi dovete fare attenzione voi ovviamente e niente anche questo video si è concluso breve ma intenso diciamo così e i prossimi creations update che appariranno sul canale sono quelli dedicati alle creazioni in resina con l'effetto petri dish montati anche loro su collana saranno altri due video perché ci sono sia collane con la catenella pallini sia collane con la catenella a coda di topo la catenella si catenella beh il cordino coda di topo il cordino cerato e non ricordo se c'è qualcosa di alcantara mi pare di sì ma non so se mi sono rimasti quindi vedremo se se ci sono in quell'occasione vedrete anche la parola orecchini collano di cui vi ho parlato nel primissimo video del creations update che vi ho fatto recentemente e niente come concludo sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti lasciatemi i vostri commenti e i vostri mi piace che così mi fate capire cosa ne pensate e contribuito a tenere attivo il canale e a far vedere i miei video anche agli altri e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video un bacione ciao